Un minuto di follia costa carissimo all'Aquila superata per 2 a 0 nello scontro diretto di Sant'Arcangelo. Una partita che i Rosso-Blu stavano nel complesso ben giocando e in un certo senso anche controllando, ma quel minuto poco dopo il quarto d'ora della ripresa fa pendere decisamente l'ago della bilancia verso i Romagnoli contro una L'Aquila incapace di reagire pur in superiorità numerica. A dispetto dei tanti problemi in infermeria il tecnico Perrone alla fine recupera Pesoli e Benzaia presenti nel 3-4-3 con il tridente consueto delle ultime settimane Perna, San Domenico e De Sousa assenti Ceccarelli e lo squalificato Maccarrone. Nel Sant'Arcangelo il tecnico Zauli praticamente al completo sceglie la pizzicità di Obeng in mediana Venitucci a ridosso della coppia Margiotta-Guidone. Partita subito vibrante ed è proprio di Margiotta al quarto minuto il primo squillo ma Scotti è prontissimo a dire no. Risposta Aquilana dopo tre minuti discesa senza ostacoli di Triarico che si fa oltre 50 metri pala al piede destro potentissimo che si schianta contro la traversa. La gara è ricca di capolgimenti di fronte dopo la mezz'ora Guidone si divincola bene e fa partire un tiro che esalta ancora l'esplosività di Scotti dalla parte opposta San Domenico sempre da fuori alza la mira. Ad inizio ripresa ci riprova l'undicesimo San Domenico ma il suo destro viene controllato da Nardi. L'Aquila sembra controllare i ritmi del gioco al diciottesimo però il Sant'Arcangelo passa azione di ripartenza rifinita con lucidità da Guidone che appoggia a Margiotta destro a giro magistrale e gran gol. Nulla da fare per Scotti e della rete numero 7 per l'attaccante di proprietà della Juventus. Passano altri 60 secondi e l'Aquila incassa il raddoppio tradita da uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza. La percussione di Guidone sembra chiudersi in maniera innocua ma Pesoli spazza maldestramente e fa secco il proprio estremo difensore. Autogol clamoroso dell'ex difensore del Pescara. La squadra di Perrone si ritrova subito dopo in superiorità numerica. Drudi, Falcia, centrocampo Triarico e Ranaldi di Tevoli gli mostra il rosso diretto. Benché 11 contro 10 l'Aquila è però a terra e non riesce a reagire. Perrone mette dentro Andrea Mancini e Milicevic. Il croato è pericoloso su punizione e offrendo questo pallone a perna che calcia centralmente. Finisce così 2 a 0 con l'Aquila agganciata dal tutto cuoio al quinto ultimo posto. Ora il Pisalfattori e il derby del Bonolis prima della sosta pasquale diranno se l'Aquila dovrà soffrire per centrare la salvezza diretta.